L'abbiamo saputo tramite la diretta Facebook a cose già fatte. Noi siamo un comune abituato a organizzare quotidianamente eventi, sappiamo, conosciamo tutto il lavoro che c'è dietro, abbiamo una calendarizzazione specifica e tutti coloro che intendono organizzare eventi a Lignano generalmente vengono in comune per verificare la disponibilità della data, la location, le attrezzature che servono. Ci sono problemi di viabilità, di sicurezza, una manifestazione di questa portata numerica sicuramente va incontro a tutto questo. Questa è la motivazione per la quale ho fatto chiamare la presidente del Pride FVG proprio per fissare un incontro la prossima settimana e poter discutere di tutte queste cose. Loro hanno mandato lunedì mattina a protocollo una richiesta di occupazione suolo pubblico senza sapere che l'area che chiedono è un'area in concessione e quindi neanche nella disponibilità del comune. Quindi ci sono parecchie cose da verificare. Poi il 31 di agosto è una giornata da bollino rosso anche in termini viabilistici perché è il sabato di controesodo di tutti i vacanzieri di agosto e quelli che arrivano a settembre. Per cui insomma le cose da affrontare sono molte. Li abbiamo invitati qui in comune proprio per parlare di tutto questo. Ritiene plausibile questa data dunque? Devo verificarla perché ripeto l'area che loro chiedono è in concessione e quindi andrà verificata anche con gli impegni che il concessionario ha già preso. Per noi è una questione organizzativa e di sicurezza pubblica tutto qui.